La notte del 7 aprile dell'anno 1300, ma potrebbe anche essere del 24 marzo del 1300 perché non conosciamo di preciso l'anno di nascita di Dante, ecco quindi comunque a 35 anni di età Dante si smarrisce in una selva oscura e intricata, impossibile da descrivere, tanto è angosciosa. Lui stesso quindi non sa dire come c'è finito poiché era pieno di sonno, sonno metaforico, il sonno della ragione quando ha perso appunto la retta via. A un tratto però mentre sta alveggiando si ritrova ai piedi di un colle dalla cui vetta vede spuntare i primi raggi del sole. Questo oltre al fatto che è primavera gli ridà speranza e lo spinge a tentare la scalata del colle dopo essersi riposato per qualche istante e aver ripensato al pericolo appena corso come appunto un naufrago che guarda le acque in tempesta dalle quali è appena scampato. Il poeta quindi inizia a salire la china del colle ma con grande fatica e incertezza. Mentre sta salendo gli appare di fronte improvvisamente una lonza, una specie di leopardo dal pelo maculato assai agile e snella che lo spinge più volte a tornare indietro. All'inizio l'ora del mattino e la stagione mite come abbiamo già detto gli comunque continuano a dare di speranza, la speranza di poter avere ragione di questa lonza ma subito dopo compare un leone che gli viene incontro con fame rabbiosa e sembra addirittura far tremare l'aria e poi una lupa famelica tanto magra da sembrare carica di ogni bramusia. Quest'ultima incute in Dante una tale paura che Dante appunto perde ogni speranza e lentamente inizia a tornare a scendere verso il basso nella zona non illuminata dal sole. Quindi mentre Dante sconfortato torna verso la selva intravede una figura nella penombra appena visibile nella poca luce dell'alba. Intimorito supplica lo sconosciuto di avere pietà di lui e gli chiede se sia un uomo in carne ed ossa oppure l'anima di un defunto. Questa figura risponde di non essere più un uomo in vita ma di aver avuto genitori lombardi e di essere originario di Mantova e quindi Virgilio, il poeta latino vissuto al tempo di Cesare e Augusto, ovvero durante il paganesimo e che ha cantato le gesta di Enea appunto nell'Eneide. Virgilio rimprovera Dante perché sta scivolando verso il male della selva mentre dovrebbe scalare il colle che è appunto il principio della felicità. Dante risponde a sua volta con ammirazione dicendo a Virgilio che lui è il più grande poeta mai vissuto, lui Virgilio ovviamente, e dichiarando che è appunto il suo maestro e modello di stile poetico. Si giustifica indicando la lupa come la bestia selvaggia che gli sbarra la strada pregando Virgilio di aiutarlo a superarla. Virgilio a questo punto gli risponde che se vuole salvarsi la vita dovrà intraprendere un altro viaggio. Infatti la lupa è animale particolarmente pericoloso e malefico, incapace di soddisfare la propria fame e che quindi uccide chiunque incontri. Virgilio profetizza poi la venuta di un veltro, un cane da caccia che ucciderà la lupa con molto dolore e la ricaccerà nell'inferno da dove è uscita. Costui, il veltro, non sarà interessato alle ricchezze materiali ma ai beni spirituali e la sua patria non sarà nessuna città in particolare. Egli sarà quindi la salvezza dell'Italia tutta per la quale già altri personaggi hanno dato la vita come i troiani Eurialo e Niso, la regina dei Volsci Camilla, il re dei Rutuli Turno, tutti cantati dallo stesso Virgilio nell'Eneide. Virgilio conclude dicendo a Dante che dovrà seguirlo in un viaggio che lo condurrà nei tre regni dell'oltretomba. Dapprima lo condurrà attraverso l'inferno dove sentirà le grida disperate dai dannati, poi lo guiderà nel purgatorio dove vedrà i penitenti che sono contenti di espiare le loro colpe per essere poi infine ammessi in paradiso e qui però non sei in paradiso appunto dove non sarà più Virgilio a fargli da guida. Infatti egli non ha avuto la possibilità di vivere durante il cristianesimo quindi Dio non può ammetterlo nel regno dei cieli, sarà un'altra anima più degna di lui a giudicare Dante in paradiso cioè Beatrice. Dante risponde a Virgilio pregandolo di fargli da guida in questo viaggio poiché è ansioso di vedere la porta di San Pietro quindi la porta del paradiso e le pene dei dannati. Virgilio inizia così a muoversi e Dante lo segue. Bene questa era la descrizione, passiamo adesso all'interpretazione del canto. Allora questo primo canto dell'inferno è il canto di introduzione dell'intero poema e presenta quindi la situazione iniziale e spiega le ragioni del viaggio allegorico. Dante qui compare nella duplice veste di personaggio reale che in un determinato momento storico si smarrisce in una selva e lo fa a metà della sua vita quindi nell'anno 1300 quando stava per compiere 35 anni e anche nella veste di ogni uomo che in questa vita è chiamato a compiere un percorso di redenzione e purificazione morale per liberarsi dal peccato e guadagnare la beatitudine. Sul piano allegorico dunque la selva rappresenta il peccato. Essa infatti descritta come selvaggia e aspra e forte, spaventosa al solo ricordo e poco meno amara della morte stessa. Quindi questo era il piano allegorico, mentre sul piano letterale è un luogo in cui chi compie un viaggio rischia realisticamente di smarrirsi per essere uscito dalla diritta via, per cui i lettori del tempo di Dante potevano trovare familiare un paesaggio simile. All'epoca infatti le zone boscose erano assai estese e selvatiche. Altrettanto realistici gli altri elementi del paesaggio simbolico, a cominciare dal colle che allegoricamente raffigura la via alla felicità terrena, cioè al possesso delle virtù cardinali che sono fortezza, temperanza, prudenza e giustizia, per le quali la ragione umana è sufficiente. E che Dante, appunto questo colle, tenta inutilmente di scalare vedendo sorgere il sole dietro la sua vetta. Il sole che rappresenta la via verso la salvezza, oltre all'ovvia considerazione che il nuovo giorno fa sparire le paure della notte e ridona al poeta nuova speranza. Le tre fiere che sbarrano il passo al poeta e lo ricacciano verso la selva sono invece le tre principali attitudini, diciamo così, al peccato, la lonza e la lussuria, il leone e la superbia e la lupa e l'avarizia cupidigia, secondo una tradizione già presente nei commentatori medievali. E anche esse ovviamente rappresentano tre animali selvaggi reali che non erano certo impossibili da incontrare in un effettivo viaggio attraverso una foresta, tranne naturalmente il leone, ma nulla conferma che il viaggio dantesco avvenga in Italia e d'altronde anche vari interpreti hanno ipotizzato che questi luoghi si trovino in realtà nei pressi di Gerusalemme, quindi proprio in quanto sotto la città si spalanca la voragine infernale. La più pericolosa di tutte è la lupa avarizia, radice di tutti i mali e per Dante causa principale del disordine politico e morale che regnava in Italia all'inizio del Trecento, di cui appunto l'Italia del Trecento è simbolo anche la selva oscura, mentre va ricordato che in molti passi del poema Dante si scaglia con forza contro la corruzione del mondo politico ed ecclesiastico del suo tempo causata principalmente proprio dall'avidità di denaro. La lupa è un ostacolo insuperabile e Dante lentamente scivola nuovamente verso la selva, cioè verso il peccato. La seconda parte del canto vede come protagonista Virgilio che sarà la prima guida di Dante nel viaggio ultraterreno e che è allegoria della ragione umana dei filosofi antichi, guida sufficiente a condurre l'uomo, quindi la ragione umana, al pieno possesso delle virtù cardinali. Virgilio giunge in soccorso del poeta in modo inaspettato come un'apparizione spettrale, tanto che Dante gli chiede timoroso se sia ombra o domo certo. La risposta del poeta latino è una vera e propria prosopopea. Ricordiamo che la prosopopea è una figura retorica per cui si introducono a parlare persone assenti o morte o anche cose astratte come se fossero vive e presenti. Virgilio infatti non fa mai direttamente il suo nome, il proprio nome, e sarà Dante a citarlo al termine delle sue parole, e si presenta come l'autore dell'Eneide, il poema che era considerato il capolavoro della letteratura latina e il cui protagonista Enea è centrale nella tradizione classico-cristiana, in quanto fondatore della stirpe romana e indirettamente di quella Roma come città che sarà centro dell'impero e della chiesa. Virgilio rimproverà Dante il fatto che non sale il dilettoso monte che è principio di ogni felicità e il poeta fiorentino risponde indicando Virgilio come il suo maestro, colui da cui ha tratto l'alto stile tragico che gli ha dato la fama, invocando poi il suo aiuto contro la lupa avarizia che lo terrorizza e costituisce uno sbarramento per lui insuperabile. La risposta di Virgilio si divide in due parti, la prima dedicata alla profezia del veltro, come abbiamo già accennato, che ricaccerà la lupa nell'inferno da dove è uscita. La seconda invece si riferisce al viaggio nell'oltretomba che Dante dovrà affrontare se vuole scampare da questo loco selvaggio e in cui sotto la sua guida visiterà inferno e purgatorio appunto mentre se vorrà visitare anche il paradiso dovrà attendere la guida di Beatrice, in quanto Virgilio è pagano e non è quindi ammesso nel regno di quel Dio che non ha conosciuto. Allegoricamente Beatrice raffigura la grazia santificante e la teologia rivelata che sola può portare all'uomo l'uomo alla salvezza, mentre è sostenuta fin dall'inizio l'insufficienza della ragione naturale, quindi Virgilio, che può andare bene per l'inferno e per il purgatorio. Infatti la ragione naturale è in grado di condurre l'uomo al possesso delle virtù cardinali e una condotta onesta, ma non di arrivare alla beatitudine eterna. Quindi questa è l'ossatura allegorica dell'intero poema e la cosa diverrà chiara già dal canto secondo, in cui Virgilio rievocherà l'incontro con Beatrice nel limbo e spiegherà che il viaggio di Dante è voluto proprio da Dio, dunque non è folle, in quanto non è affrontato col solo ausilio della ragione dei filosofi che Virgilio rappresenta. Quindi la scelta di Virgilio come guida nella prima parte del viaggio è stata molto discussa dalla critica, in quanto Dante avrebbe potuto scegliere un filosofo come Aristotele o un personaggio storico come ad esempio Catone Uticense, ma Virgilio nel Medioevo era ritenuto un pensatore al pari degli altri grandi filosofi antichi e inoltre si riteneva che avesse intravisto alcune verità del cristianesimo e le avesse preannunciate nelle sue opere. Virgilio era anche il principale scrittore dell'età di Augusto sotto il cui impero il mondo aveva conosciuto pace e giustizia indispensabili secondo il pensiero medievale affinché potesse diffondersi appunto il cristianesimo e quindi l'autore dell'Eneide è in realtà una scelta quasi obbligata come maestro e guida di Dante nel viaggio attraverso i primi due regni ultraterreni. Quindi questo primo canto si chiude con Dante che pieno di speranza e di buoni propositi si accinge a seguire la sua guida per giungere nei luoghi che gli ha preannunciato. Salvo poi all'inizio del canto seguente venire assalito da dubbi e timori che Virgilio prontamente fugherà raccontando appunto del suo incontro con Beatrice. Adesso qualche parola in più sulla profezia del veltro è una delle più note e oscure discusse controverse della commedia evocata da Virgilio che preannuncia la venuta di questo misterioso personaggio destinato a cacciare e uccidere la lupa avarizia dall'Italia e dal mondo. Il veltro era un cane usato durante le battute di caccia dunque perfettamente in grado di mettersi sulle tracce di un animale selvaggio. Su di lui sono state avanzate le più disparate ipotesi che però tralasciando le più fantasiose si riconducono a un papa, forse un francescano, il feltro infatti potrebbe alludere al panno del suo saglio oppure potrebbe essere un imperatore, ad esempio alcuni hanno ipotizzato Arrigo VII di Lussemburgo, o un signore italiano e alcuni hanno ipotizzato can grande della scala. Quindi questa questione del veltro è abbastanza complessa anche per via dell'incerta cronologia della composizione di questo primo canto per cui alcuni obiettano che se Dante scrive questi versi intorno al 1307 e questa è l'ipotesi più accreditata, mentre alcuni come abbiamo già detto nell'introduzione pensano che questa, che la commedia sia stata, che Dante abbia iniziato a scrivere la commedia prima dell'esilio, comunque se si parla del 1307 era in effetti troppo presto perché Dante potesse pensare ad Arrigo VII che scende invece in Italia soltanto nel periodo 1310-1313 e allo stesso tempo anche Can Grande che all'epoca aveva appena 16 anni e che appunto Dante incontrò molto più tardi. Quindi detto questo è innegabile che l'elogio a Can Grande messo in bocca a cacciaguida nel diciassettesimo canto del paradiso, presenta molti punti di contatto con questa profezia e quindi fa propendere verso questa identificazione, quindi il veltro potrebbe essere Can Grande, però bisognerebbe assumere che Dante abbia rimaneggiato il canto primo in un secondo momento e non abbiamo alcuna conferma storica di questo cambiamento che Dante avrebbe fatto appunto del primo canto. Inoltre alcuni hanno ipotizzato che il velto in realtà non fosse da identificare con un personaggio in particolare e che la profezia sia volutamente ambigua proprio per essere indeterminata, che appunto è un qualcosa non di completamente unico nella commedia, cioè accade già altre volte. In ogni caso chiunque fosse il veltro Dante si aspettava da lui un profondo rinnovamento sociale e politico in grado di riportare la giustizia troppo spesso calpestata dagli ecclesiastici corrotti e dagli uomini politici del tempo, che è quindi la situazione di degrado morale e disonestà che il poeta denuncia più riprese nella sua commedia. Altri hanno anche ipotizzato che questa profezia del velto si possa ricollegare con quella contenuta nel canto trentatreesimo del Purgatorio, dove appunto si dice che un messo di Dio ucciderà la prostituta che simboleggia la chiesa compromessa con la monarchia di Francia. Molti interpreti hanno identificato questo messo di Dio con Arrigo VII e quindi con lo stesso veltro ma di questo non si ha alcuna prova certa, anche se è evidente che entrambe le profezie, appunto quello del messo di Dio, del Purgatorio e del veltro, hanno in comune il carattere oscuro ed enigmatico e preannunciano quel cambiamento della società che Dante si attendeva e nella quale manifesta una grande fede in più passi del poema. Bene, questo video termina qui, un sincero grazie per la visione, ciao a tutti e alla prossima!